E' appena terminata la KZ2 qui a Muroleccese per il primo round della VSK Master Series. Un secondo posto per Marco Zanchetta un po' amaro o comunque dolce? No, secondo me è dolce, visto che abbiamo visto già dall'inizio del weekend che l'Enox era molto veloce. Siamo riusciti a conquistare la vittoria in finale 1. Abbiamo avuto un po' di problemi ieri, abbiamo cercato di risolverli al meglio. Non siamo riusciti del tutto, però va bene così in ottica campionato molto bene. Secondo me è molto soddisfatto, ringrazio Energy, mio padre e i fratelli Rizzi.